Il tempo passa inesorabilmente e gli operatori portuali di Gela assistono ogni giorno all'insabbiamento della struttura. Tante le promesse, ma la situazione non cambia. Anzi, adesso il capogruppo consigliare del Partito Democratico, Enzo Cirignotta, a chiedere interventi immediati e concreti. L'esponente politico ha sollecitato la convocazione di un incontro prefettizio in merito proprio alla situazione del Porto Isola e del Porto Rifugio. Del caso è stato investito il sindaco Domenico Messinese. L'annoso insabbiamento del Porto Rifugio, dice Cirignotta, limita la navigazione in atanti sia da riporto che di sicurezza a supporto del sito industriale e delle piattaforme presenti nel Golfo Gelese e ha ridotto notevolmente il pescaggio. Il maltempo dei giorni scorsi ha oltremmeno peggiorato, una situazione già ampiamente compromessa. Non diversa è la situazione per quanto riguarda il Porto Isola. Di recente il comandante della Capitaneria di Porto, accertando lo stato di degrado delle strutture e dei manufatti del pontile e del Porto Isola, ha emesso una ordinanza che vieta il transito nell'area del pontile e delle pontilette, invitando la società raffineria di Gela ad adottare misure di protezione al fine di garantire l'incolumità delle persone. L'unica speranza, dice Cirignotta, è che non succeda nulla di serio a mare perché la situazione potrebbe precipitare in quanto i mezzi antincendio non possono più uscire dal porto. I mezzi antinquinamento, i barcaioli ed i piloti partono dal Porto di Licata con la conseguente dilatazione dei tempi di intervento. Una situazione insostenibile che sta penalizzando anche i pescatori che tra qualche giorno non potranno più andare a lavorare per l'impossibilità di uscire dal Porto Rifugio. I problemi di sicurezza dunque sono all'ordine del giorno. Si intervenga subito con il prefetto alla presenza di istituzioni ed operatori economici interessati al fine di sollecitare tutti quegli interventi necessari al ripristino della funzionalità del Porto Rifugio e del Porto Isola.